Benvenuti nella ventosa spiaggia di Wittenburg in Olanda. Questa è la casa di un'incredibile creatura che per prendere vita ha solo bisogno del soffio del vento. Theo Jansen lavora incessantemente da più di 20 anni per creare queste nuove forme di vita. Fatte per lo più in PVC, le mie creature non hanno bisogno di mangiare perché l'energia la raccolgono dal vento. Racconta lo scultore che ha nel cassetto un ambizioso progetto. Spero che le mie elaboratissime architetture possano un giorno lasciare casa e vivere autonomamente nelle spiagge olandesi. Grazie a tutti.